In ricordo di Nicola Salvatorelli è stato presentato al Belvedere di Montesilvano Colle il libro di Anna De Antoni dal titolo Un altro giorno ancora con te, un memoriale di 188 pagine in ricordo di Salvatorelli, noto e stimato medico, creatore del ristorante Danini al Borgo Antico, proprio accanto al Belvedere. La prefazione è stata curata dallo chef pluristellato Nico Romito. Questo è un libro che ho scritto, come dicevi, in ricordo di mio marito, il dottor Nicola Salvatorelli, che è scomparso già due anni fa e qualche mese fa ho sentito proprio il bisogno di rivivere con lui un altro giorno, che poi è il significato che ho voluto dare a questo libro, per ricordarlo e per condividere un pezzo di vita che per me è stato veramente importante, con le persone che erano care a lui. È uno spaccato di vita dove, come ha detto l'editore, si piange e si ride con le stesse lacrime, perché Nicola era questo, era un uomo anticonformista, era un uomo fuori dagli schemi, ma soprattutto era una persona vera, era una persona che ti lasciava un segno. Nicola Salvatorelli ha ricordato il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. È una figura indimenticabile per la città, un grande medico, un grande ristoratore, un uomo che amava il bello e che ha lavorato tanto per l'intera comunità. Nicola aveva scelto il Borgo del Colle per diffondere la cultura e la sua umanità e a questo luogo vogliamo ridare la dignità che merita, proprio come avrebbe voluto lui. Mi scrive, voglio che scrivi il libro della nostra vita. Io all'epoca pensai che era un modo di dire, nel momento in cui ho pensato di scrivere questo libro e sono andata a rileggere i messaggi che ci eravamo scambiati, questo è stato il primo messaggio che mi è saltato agli occhi, proprio come scrivi, racconta affinché le cose non vengano dimenticate. Grazie.